Fagli una ripresinazione Antonio, un saluto Mi ripresi l'azione che ho fatto Queste sono le vacanze di Antonio Gli abbiamo fatto comprare la ciccia che l'hanno fatto a cosce Stai aspettando quella Hai fatto? Non guarda la telecamera davanti Vedi le moglie stanno sedute e guardano Non parate mai a fare cosce Vedi così Ciao Hai fame? Ciao brutta Quasi pronti Allora Non devi stare andando lontano Sempre si sgancia dalla pochetta Dio lo spiedino va per terra E poi si fa anche a mangiare Lontano è più saporito Qua Cilie Sì Sì Se la fai Rocco non ti rende la mano Tieni bene? Ah pure la tavola Ahahahah 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 Adesso vengono serviti gli spiedini Adesso vengono serviti gli spiedini E Antonio procederà Alla messa delle bistecche Alla bistecca perché aspettiamo tutti Ah, alla carbonella che arriva via Sì 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 Sì